Oggi parleremo del business del lusso. Come abbiamo detto ho fatto un sondaggio e molti di voi mi hanno chiesto di argomentare un po' delle cose che sono state scritte sul libro. Oggi in particolare parleremo su come fare una fantastica prima impressione. Nel libro ci sono tantissimi punti, l'ho diviso in 11 punti, oggi ne tratteremo uno. Quindi fare una fantastica prima impressione e oggi parleremo nello specifico su come dare il benvenuto. Vi ricordo come al solito fatemi domande scrivendomi qui sotto e vi risponderò naturalmente in diretta. Ok, incominciamo. Come fare una fantastica prima impressione? Allora, dobbiamo sapere che la prima impressione è dettata da tantissimi piccoli dettagli. I due maggiori sono i pregiudizi e aspettative. Come abbiamo visto già nei video precedenti, pregiudizi e aspettative sono basati su schemi mentali dettati dall'esperienza di ognuno di noi, quindi sull'esperienza soggettiva. E questo avviene in modo automatico, ok? Non è facile da gestire o da controllare. Ho spiegato qualche trucco su come farlo a livello personale, quindi se noi eroghiamo un servizio a qualcuno ho dato qualche informazione su come gestire questa cosa. Naturalmente il cliente che viene da noi, non interessa di gestire queste cose perché lui sta usufruendo dell'esperienza del customer service. Quindi siamo noi che dobbiamo andare incontro al cliente. Ok, quindi detto questo le aspettative e pregiudizi si attivano in maniera, per il cliente, automatica è molto molto rapido, ok? Quindi se vede qualcosa fuori posto sicuramente ci sarà qualcosa che non andrà. Quindi dobbiamo essere molto rapidi a gestire il cliente, a mandare una comunicazione positiva e professionale al cliente, perché questo è molto molto importante. Quindi nel momento in cui noi ci interfacciamo con un cliente, un pregiudizio, un'aspettativa viene fatta rapidamente da parte sua, ok? Si parla di meno di un secondo. Mentre, questo lo dice la PNL, nel momento in cui ci presentiamo abbiamo 7 secondi per fare una bella impressione con i nostri clienti e in generale con qualsiasi persona. Quindi diciamo abbiamo un'aspettativa, un pregiudizio che viene fatto in automatico subito, ok? Tipo una foto che viene fatta su di noi. Dopodiché abbiamo 7 secondi per far sì che possiamo avere una bellissima impressione e fare una bellissima impressione, un bellissimo impatto al nostro cliente, ok? Quindi questo è un aspetto di tempistica da considerare nel momento in cui andiamo a comunicare con un cliente. Naturalmente nell'ambito del lusso questi aspetti sono molto più diciamo sotto l'occhio del ciclone, sono molto più diciamo l'occhio del cliente l'action molto più attento, ok? Quindi sicuramente sarà un aspetto che lui andrà a verificare e naturalmente vorrà un bellissimo welcome, un bellissimo benvenuto da parte del cliente, quindi non possiamo assolutamente sottrarci a questa cosa, ok? Quindi come dare il benvenuto? Allora io ho dato degli spunti, naturalmente anche qui dipende da dove lavoriamo, dipende dal nostro posto di lavoro, se siamo dei venditori, se lavoriamo in un ufficio, se abbiamo prettamente contatti telefonici, se abbiamo un negozio, ci sono tantissimi campi, però ci sono delle cose generali che si possono applicare bene o male a tutti. Allora, quelli che ho inserito qui nel libro sono i seguenti. Allora, per dare il benvenuto, allora, punto primo, quando ci interfacciamo con un cliente, quindi nel momento in cui iniziamo ad interagire visivamente con un cliente, un cliente per default deve essere riconosciuto tra, diciamo, gli standard generici nel lusso, dicono che nel momento in cui arriva un cliente da me, quindi mettiamo che sia un hotel o un negozio, un cliente arriva, gli standard del lusso dicono che deve essere riconosciuto tra i 20 e 30 secondi, ok? Quindi mettiamo che il cliente arriva in un negozio, tra i 20 e 30 secondi lui dovrebbe ricevere un benvenuto da qualcuno, ok? Quindi che cosa succede? Il cliente arriva, per me lo standard può essere coperto tranquillamente con le tecniche che insegno io entro i 15 secondi, perché non c'è proprio un bisogno formale, ok? Di dover andare lì e presentarsi direttamente, soprattutto nei momenti in cui c'è molto da lavorare, ma quello che devo fare è sicuramente far capire al cliente che l'ho notato e naturalmente dove è possibile sicuramente andiamo a dargli un benvenuto come si deve, fatto bene, ma in caso in cui io non possa farlo, perché ci sono tantissimi momenti di caos magari nel tuo specifico ambito lavorativo, detto questo possiamo sicuramente guardarlo e comunque fare un cenno per far capire che l'abbiamo notato e comunque gli stiamo cercando di dare un benvenuto, però a prescindere tendenzialmente, giusto in qualche raro caso non è possibile farlo, ma nella maggior parte dei casi 20-30 secondi è veramente un tempo abbastanza lungo per poter dare un benvenuto come si deve e comunque trovare quello spazio di tempo per far sì che io possa andare dal cliente e dargli il benvenuto. Negli hotel è un pochino differente perché lì ci sono proprio dei ruoli specifici e sicuramente lì il benvenuto diretto va dato al 100% tutti i clienti, non ci può scappare nessuno, però diciamo che 30 secondi può sembrare poco, ma se facciamo una prova magari a negozio vuoto o hotel quando non c'è nessuno e vi mettete a contare fino a 30, vedete che non è un tempo troppo breve, se vi chiedessero 3 secondi sicuramente sì, ma diciamo 20-30 secondi da standard è pure abbastanza comprensibile, abbastanza erogabile, quindi non ci sono grossissimi problemi per questo qui. poi il secondo punto, dove è possibile dobbiamo cercare di salutare il nostro cliente con la madrelingua cosa intendo dire? Naturalmente se abbiamo un cliente giapponese e non conosciamo il giapponese non dico che dobbiamo parlare il giapponese, ma se impariamo come dare un benvenuto con una semplice frase di benvenuto che può essere come un welcome in inglese, lo impariamo nella maggior parte di lingue possibili naturalmente aumenta il nostro valore e aumenta il valore percepito da parte del cliente perché noi salutiamo il cliente in lingua madre e comunque si sente capito e si sente benvenuto nel posto in cui sta andando o nel posto in cui sta comprando e inoltre noterà comunque il cliente nell'ambiente di lavoro anche gli altri e se tutti facciamo questa cosa vedrà proprio l'ambiente che ognuno dà un benvenuto in lingua diversa e la percezione che si ha è molto molto alta e molto ampia e quindi sicuramente avrà un impatto aziendale molto molto importante quindi è una cosa abbastanza semplice, basta fare un pochino di pratica però ti permette veramente di fare un bel salto in avanti rispetto alla concorrenza sia a livello personale sia a livello aziendale se naturalmente i colleghi non vogliono fare questa cosa è un vantaggio per te perché comunque tu ti puoi elevare ad un livello successivo senza concorrenza interna e quindi è un'ottima cosa altra cosa importante nel momento in cui noi diamo il benvenuto è sapere la cultura del cliente perché in alcune culture ci sono modi diversi di salutare noi naturalmente conosciamo quello occidentale quindi ora parte questo periodo però diciamo pre periodo del virus diciamo c'era la stretta di mano per le persone che comunque avevano una conoscenza più stretta c'era l'abbraccio o il bacio sulla guancia anche quello faccio un semplice esempio sul bacio sulla guancia ci sono alcuni paesi che ne danno uno alcuni paesi tipo il nostro ne danno due e alcuni paesi ne danno tre ok quindi cambia anche questo piccolo aspetto in base al paese dove al paese di provenienza del nostro cliente prima riusciamo a capirlo e meglio è perché riusciamo ad aggiustare il tiro in maniera corretta e a volte basta veramente poco per capirlo basta sentirlo magari parlare con la persona con cui è se è da solo basta sentire l'accento ok magari posso dare anche un benvenuto se vedo che uno straniero in inglese se percepisco un accento di una lingua che conosco naturalmente posso provare a parlare in quella lingua ok però tornando alla cultura vediamo perché ci sono alcune culture che non vogliono il contatto fisico alcuni ci sono gli inchini diciamo ci sono varissimi aspetti anche qui se riusciamo a studiare una panoramica della gestualità e della cultura dei paesi con il quale maggiormente ci interfacciamo sicuramente è un punto al nostro vantaggio ok poi allora come dicevo prima nel momento in cui il cliente entra in una struttura che sia negozio che sia albergo che sia qualsiasi cosa dove ci sono dei dipendenti e dei colleghi quindi diciamo il cliente con chiunque persona si interfacci deve sentirsi benvenuto e deve sentirsi salutato da tutti ok altrimenti se io faccio un ottimo lavoro il cliente sicuramente si aggancerà a me però la sua esperienza nella generalità dell'azienda o del posto in cui lavori non sarà ottimale perché se io faccio un ottimo lavoro naturalmente riesco ad agganciare il cliente lo porto a me e lui naturalmente verrà sempre da me a chiedere le cose che succede però il cliente quando entra per esempio in un negozio ha un'esperienza generica c'è un'esperienza generica del negozio che non è dedicata solamente alla singola persona che fa un'enorme differenza e sicuramente indirizza in modo positivo o negativo la persona ma ci sono anche i dettagli esterni come può essere una pulizia del negozio ma sicuramente è l'attitudine del personale se tutto il personale è unito compatto e tutti fanno le cose giuste sicuramente la percezione che il cliente va di quel posto sarà ampliamente maggiorata e il beneficio che si avrà sarà enorme quindi nel momento in cui entra un cliente se si sente salutato da tutte quelle persone con cui si interfaccia anche solo a livello visivo che si sente percepito che si sente salutato fa una differenza enorme non dico che sia sempre possibile nel 100% dei casi ma quando è possibile cerchiamo di farlo sempre perché è veramente importante quindi se io ho un collega che è con un cliente e non ho tanto da fare alzo lo sguardo e vedo che incrocio lo sguardo del cliente facciamo un cenno di benvenuto e facciamo un cenno per fargli capire che siamo contenti di averlo con noi e da noi ok questo è anche un aspetto molto molto interessante e poi infine abbiamo il saluto abbiamo il saluto da fare al nostro cliente deve essere naturalmente un saluto formale se rimaniamo nell'ambito dell'italiano che magari può essere più attinente a quello che fai sull'italiano diciamo rimaniamo sempre a una determinata distanza dal cliente usiamo il buongiorno o buonasera quindi buongiorno mister x come sta non usare ciao non usare salve rimaniamo sempre sul buongiorno buonasera naturalmente se con un cliente abbiamo un rapporto molto più stretto lo conosciamo da tempo è un pochino diverso però diciamo nel primo saluto cerchiamo sempre di mantenere questa regola poi magari possiamo entrare dopo un pochino più nel confidenziale ma il consiglio che do però è sempre di mantenere più o meno questa questa minimo questa minima di distanza nel nel saluto ok quindi ultima cosa come dicevo prima vi ricordo che è importantissimo notare il cliente anche quando non non interagisce con noi o nel caso in cui fossimo noi impegnati e il cliente si si mette in una fila ipotetica lanciamo sempre uno sguardo dalla oltre il nostro cliente che abbiamo di fronte cerchiamo sempre sempre di capire le persone che ci sono intorno e cerchiamo a tutte di mandare il nostro input di presenza di voglia di volerli aiutare e veramente di vera consapevolezza di voler dare un servizio di eccellenza al cliente e queste sono le cose che ci aiutano a farlo in maniera veramente importante ok quindi questo aspetto può sembrare molto molto semplice però sicuramente fa un'enorme differenza come tutti i dettagli che stiamo vedendo in questi giorni in queste dirette come vedete sono sono piccoli aspetti ma poi sono sono quelli che fanno la differenza come se pensi ad una macchina ad esempio che differenza c'è tecnicamente tra una una ferrari e una panda entrambi hanno lo sterzo entrambi hanno i pedali per accelerare e frenare la frazione dipende entrambi hanno gli specchietti retrovisori entrambi hanno un motore entrambi hanno quattro ruote che entrambi hanno una carrozzeria che cosa cambia cambiano i dettagli ok la panda dei dettagli più standardizzati la ferrari ha dei dettagli più d'elite ok al di là di quello che può essere il marketing ok che naturalmente contraddistingue queste case automobilistiche da quelle popolari diciamo così chiamiamole così ma sicuramente sono i dettagli che fanno un enorme differenza ok uno su tutti facendo questo paragone tra panda e ferrari è assolutamente magari il rumore della macchina ok quando passa una panda a volte neanche la sentiamo quando passa la ferrari si sente come ok quindi sicuramente sono sono dettagli che possono sembrare piccoli per alcune cose ma vedrete che applicandoli fanno una differenza veramente molto 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 importante ok quindi ora vediamo se ho qualche richiesta da parte vostra ok no ok perfetto allora facciamo così noi ci diamo appuntamento al prossimo video naturalmente se state vedendo questo video in diretta e se non state vedendo questo video in diretta scrivetemi comunque sarò lieto di potervi rispondere alle vostre domande vi ricordo di iscrivervi al canale youtube e al gruppo di facebook il business del lusso e vi ricordo che ora è possibile su amazon acquistare anche la versione cartacea del business del lusso per coloro che si iscrivono al gruppo facebook o al canale youtube è possibile averlo in maniera totalmente gratuita digitale ok bene ok allora non mi resta che salutarvi vi do appuntamento al prossimo video sappiate che stanno arrivando degli ospiti molto molto interessanti sia a livello nazionale che a livello internazionale quindi continuate a seguire queste dirette perché diciamo avremo delle belle sorprese sia questa settimana sia che la prossima quindi rimanete collegati io nel frattempo vi saluto grazie per la vostra attenzione ci vediamo nel prossimo video ciao